Grazie Presidente, grazie Professore Berlingeri e un cordiale ringraziamento a tutti voi che avete avuto la pazienza di rimanere senza pausa a caffè. Il tema che mi è stato affidato, io non mi rimetto al testo scritto, sarò telegrafico apposta, rimettendo gli approfondimenti dovuti al testo scritto. Il tema che mi è stato affidato è quello della responsabilità genitoriale in relazione all'interesse del minore. La prima questione, ma è argomentabile la superiorità dell'interesse del minore, giuridicamente argomentabile, sul piano interno? Ora ci confrontiamo con una cornice di principi, quelli costituzionali pari ordinati. Ci confrontiamo con l'articolo 2 che impone la persona umana e i diritti della persona umana, ci confrontiamo con l'articolo 3 che non pone distinzione fra persona e persone. Quindi da questo punto di vista potrebbe risultare difficile argomentare la superiorità dell'interesse del minore. Ma c'è qualche appiglio normativo che potrebbe consentire invece di argomentarla sul piano costituzionale? Dal punto di vista sempre del tessuto normativo, combinando il disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 32 della Costituzione, qualche cosa emerge, un dato emerge. Perché evidentemente se la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si sviluppa la propria personalità e del pari riconosce la salute declinata nell'integrità tanto fisica quanto psichica, risulta sufficientemente argomentabile la proiezione costituzionale massima verso la tutela della salute nel momento in cui questa è maggiormente proiettata allo sviluppo della persona umana. Semplicemente combinando l'articolo 2 con l'articolo 32. Ma questo pone un problema di eventuale discriminazione? Dal mio punto di vista in realtà no. Perché vuoi per il principio di differenziazione, vuoi per il diritto alla differenza, l'articolo 3 della Costituzione non impone l'eguaglianza, impone il rispetto della differenza. Celebra la differenza come tratto maggiormente qualificante l'individualità. E questo dal punto di vista normativo. E dal punto di vista dei principi costituzionali, delle idee forza della Costituzione, beh e qua entra in gioco un fattore determinante. Ossia il diritto ha una ineludibile radice relazionale, ha senso solo nella relazione interpersonale. Motivo per il quale la nostra Costituzione accanto al valore centrale della persona umana pone in chiave, direi più forte come idea forza, il valore della solidarietà. E la solidarietà esprime un senso inevitabilmente relazionale. È una proiezione, quella costituzionale, fortemente solidaristica. E questo è dimostrato dalle norme che maggiormente si distaccano, per esempio la funzione sociale della proprietà. Perché ci deve essere la funzione sociale della proprietà? oppure il limite della dignità nell'ambito della libera iniziativa economica, dove massimamente potrebbe essere esaltata l'individualità. Il valore solidaristico, il valore egalitario ma solidaristico è rappresentativo dell'intero tessuto costituzionale. E questo consente di argomentare la superiorità dell'interesse del minore o la preminenza. Superiorità e preminenza che evidentemente esprimono, diciamo, un intrinseco ordine gerarchico. Superiorità rispetto ad altro, preminenza rispetto ad altro. E che quindi però impongono la relazione. E del resto, a ben vedere, almeno ad una lettura del dato normativo classico civilistico, che l'interesse del minore fosse oggettivamente considerato preminente, trova riscontro nel dato civilistico. Vuoi per tutte le norme a protezione del minore, vuoi per quelle norme che accordano al minore, al di là del soggetto minore come persona umana, quegli ambiti di capacità progressiva a cui il diritto per l'appunto riconduce spazi di autodeterminazione. E abbiamo una, ancora del resto, il senso stesso della rivisitazione del concetto di potestà, prima che divenisse responsabilità genitoriale. Nell'inversione del rapporto fra il diritto impositivo del genitore e il dovere del genitore, già questo esprime, con l'esaltazione del dovere genitoriale, con il ritenere il correlato diritto del genitore strumento di attuazione del dovere nei confronti dei figli, già questo esprime la preminenza e l'interesse del minore. Allora la funzione genitoriale va man mano, come dire, scemando al raggiungimento di quelle soglie di capacità progressiva speciale dal punto di vista giuridico che l'ordinamento accorda ai minori in fase progressiva. Capacità di discernimento, intendere e volere, il cosiddetto grande minore a cui faceva riferimento precedentemente il Presidente Busnelli, fino alla soglia della capacità di agire di natura patrimoniale. Ma tutto questo ad oggi è così. Noi abbiamo, anch'io vedo non troppo bene la facile traslitterazione, tradurre il best interest of the child in preminente interesse del minore o superiore interesse del minore, tradurre la parental liability in responsabilità genitoriale. Usiamo concetti diversi, la responsabilità siamo abituati a considerarla una conseguenza, quindi diciamo un effetto e la causa di quell'effetto nell'ambito genitoriale è ovviamente nella genitorialità stessa. Ma l'altro elemento che forse contribuisce a dipingere in modo un po' più concreto il quadro, noi stiamo assistendo al di là dell'eventuale riflessione sul superiore interesse del minore e come conseguenza del passaggio fondamentale dal soggetto alla persona all'esaltazione dell'autodeterminazione. L'autodeterminazione individuale è diventata una sorta di assoluto giuridico a fronte del quale l'ordinamento sembra chiamato a piegarsi per assecondarla o a lasciarle definitivamente spazio. E questo pone una questione in fondo. La funzione dell'ordinamento giuridico rimane ancora ordinante, cioè rimane ancora quella di segnare un confine fra il lecito e l'illecito, rimane ancora sicuramente quella di attribuire diritti, cioè di tradurre l'interesse in quanto meritevole di protezione secondo l'ordinamento in situazione giuridica soggettiva. Ma il principio di autodeterminazione, l'esaltazione della individualità non rende quel diritto soggettivo diritto potestativo, non vede l'altro in stato di soggezione. Il consentire troppo è funzione dell'ordinamento o la funzione dell'ordinamento alle volte è contenitiva a fronte dell'individualità. Beh, la nostra Costituzione sembra orientata nell'ottica solidaristica a imporre al diritto di mantenere la sua pensione quantomeno in modo di continenza. Almeno questa è l'idea. L'altro punto, quando sorge la responsabilità genitoriale e chi investe la responsabilità genitoriale? Beh, il codice, consideriamo la potestà, il codice civile come anche le convenzioni internazionali legano le responsabilità genitoriali, declinata al plurale, a una fase prenatale. Ma chi è investito della funzione genitoriale? Se non va derrato il regolamento 2201 del 2003, il Bruxelles secondo bis, che per primo ha definito la responsabilità genitoriale, investe della funzione genitoriale chiunque si occupi del minore, specificando espressamente sia esso persona fisica o ente. Ma l'ente massimo qual è? Dal mio punto di vista la funzione genitoriale come responsabilità è dell'ente massimo, ossia dello Stato. L'ordinamento si è sempre proiettato, vuoi nell'ambito adottivo, con limitazione nature, vuoi con la tutela del minore, si è sempre proiettato in prima battuta a proteggere il superiore interesse del minore e a farsene carico. Un esempio per tutti è il fatto che il minore non abbia mai avuto un legale rappresentante dei suoi diritti in un sistema costituzionalmente orientato al diritto di difesa. Come mai non è mai uscita la questione? Perché la funzione dell'avvocato del minore era attribuita al pubblico ministero minorile che non a caso assolve quella funzione specifica e questo conferma l'idea che l'ordinamento considerasse massimamente da proteggere l'interesse del minore anche contro la posizione dei soggetti che avrebbero modo di influire sull'interesse del minore. E allora oggi come confrontiamo questa esigenza di tutela del superiore interesse del minore con questa forte propensione all'autodeterminazione? I margini dell'autodeterminazione sono quelli in ambito familiare che abbiamo visto prima. Il diritto del resto ha un potere pressoché assoluto, può dare la vita, può togliere la vita, può far imporre di credere lo strumento della finzione e questo però segna anche il limite dell'ordinamento forse, il limite nell'uso prudente dello strumento giuridico che impone il principio di cautela, il principio di precauzione, giurisprudenza. Quando questo? Nel momento in cui il diritto forse massimamente deve esprimere se stesso. Se il diritto nasce per esigenza di gestione delle relazioni interpersonali, il diritto assolva una funzione di protezione del debole a che, tanto per usare una formula non mia ma usata da altri, al diritto della forza, si sostituisca la forza del diritto per contenere l'individualismo e allora forse dovremo recuperare questo senso, dovremo recuperare tutte quelle bellissime pagine dei più importanti giuristi contemporanei sulla funzione del giurista oggi. Il riferimento prima a Paolo Grossi, il professor Lipari, tanto si è speso sulla questione ma tanti altri sono spesi. Forse recupero l'analisi che dobbiamo fare proprio sulla funzione dell'ordinamento giuridico in questi casi a tutela dei soggetti deboli. Possiamo ammettere che l'ordinamento assolva ad una funzione servente l'utilitarismo individuale o dobbiamo tornare ad affermare la funzione ordinante del diritto come funzione di individuazione di un confine oltre il quale nonostante la tecnica consenta andare, il diritto non può consentire di andare. Forse questo potrebbe essere il recupero originario della funzione del giurista, il recupero originario della funzione del diritto a che il diritto non diventi ragionevole. Grazie.